Ragazzi, vedo qualcuno di voi fuori forma, vi voglio attivi, positivi, piedi per terra. Sarà una passeggiata. Diamoci una mossa. Oggi bisogna fare movimento. Fare movimento ogni giorno aiuta a vivere bene e in buona salute. Ogni occasione è buona per svolgere attività fisica. Fai una passeggiata, usa le scale, vai in bicicletta, accompagna a piedi i bambini a scuola. Su, dai che la convocazione del CT non si rituta mai. Contaci. Datti una mossa. Datti una mossa.